Salmo 37 di Davide Salmo 38 di Davide Salmo 38 di Davide Salmo 39 di Davide Salmo 39 di Davide Salmo 39 di Davide La legge del suo Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. L'Empio spia il giusto e cerca di farlo morire. L'Eterno non l'abbandonerà nelle sue mani e non lo condannerà quando verrà in giudicio. Salmo 39 di Davide Mentre i trasgressori saranno tutti quanti distrutti. La posterità degli Empi sarà sterminata. Ma la salvezza dei giusti procede dall'Eterno. Egli è la loro fortezza nel tempo della distretta. L'Eterno li aiuta e li libera. Li libera dagli Empi e li salva perché si sono rifugiati in Lui.